Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi ho pensato di fare un po' una carrellata delle ultime letture del periodo, visto che è un po' che non faccio video, quindi ho accumulato un po' di cose di cui parlare. Ho una lista, perché alcuni libri non so dove siano andati a finire, li ho messi da qualche parte. Problemi di spazio nelle case di Londra, vuol dire che infili le cose, non so dove sono andate a finire, ma vabbè. Partiamo subito con un libro che avevo mostrato su Instagram, e cioè Woman at Point Zero di Naval El-Sadawi, che è stato tradotto in italiano, credo con Firdaus, Storia di un'egiziana, da Silvia Federici. Ve ne ho parlato perché qualche mese fa ho letto un libro che si chiama Why Women Have Better Sex Under Communism, di cui vi lascio la recensione, insomma le mie impressioni qua nelle schede, che non mi aveva fatto impazzire, e che però aveva scaturito un po' il passare a libri che effettivamente risveglino qualcosa in me. Perché? Perché in quel saggio, secondo me, il problema principale era un po' quell'atteggiamento, come dire, alla volemossè bene, di un certo tipo di femminismo, che è molto blando, che pensa che basta che ci siano più donne sì io, o più donne in politica, in posizioni importanti, per risolvere un po' tutti i problemi dell'umanità. E non è così. E sinceramente nel corso degli anni il mio femminismo è cambiato molto, e certi tipi di letture non sono più sufficienti per me. Se un tempo magari per ignoranza mia, proprio nel senso di ignorare certe cose, mancanza di anche una sorta di ricerca messa in discussione di me stessa, qualunque fosse il motivo, certi tipi di letture che possiamo definire femministe liberal, potevano anche appagarmi, pur magari con delle riserve, adesso non sono più sufficienti per me. E leggendo appunto quel libro, mi è venuta poi la voglia di andare a leggere appunto in comunione questo romanzo, e un saggio di Silvio Federici, che appunto si chiama Il punto zero della rivoluzione. Perché si chiamano in modo simile? Perché appunto Federici ha preso ispirazione appunto dal titolo di questo romanzo, che poi lei ha poi tradotto anche in italiano. Questo romanzo è in realtà anche ispirato a fatti veramente accaduti, il che non lo rende appunto più facile da digerire assolutamente. È la storia di questa scrittrice che va a trovare una donna in prigione, questa donna non ha mai voluto parlare con nessuno, ed è prossima alla pena di morte. Però con lei si apre e racconta la sua storia, e lì parte effettivamente la vicenda. Firdaus è una donna egiziana e si ritrova fin da piccola, fin da bambina, a dover subire i soprusi degli uomini in una società estremamente patriarcale, come può essere quella appunto del Cairo, ma che in realtà ha tantissimo in comune anche con la società in cui viviamo noi. Quindi la potenza di questo romanzo è proprio il fatto che sia così universale nel raccontare il modo in cui le donne siano sempre soggette fin dalla nascita a un certo tipo di comportamento, di aspettative, eccetera, eccetera, perché qua c'è veramente di tutto, victim blaming, c'è violenza di ogni genere, di tutto e di più. E questa è la storia appunto di Firdaus che cerca di ad un certo punto riprendere in mano la propria vita e staccarsi dalla prepotenza e degli uomini e anche dal fatto di dover in un certo senso, in un qualche modo, sempre dipendere da un uomo. È breve, però è molto intenso e appunto è incredibile, mi è piaciuto veramente tanto. E parallelamente poi appunto al saggio di Federici è chiaro che ti veramente scatena qualcosa dentro. Il saggio di Federici appunto prende spunto dal romanzo per fare un discorso su quello che è il lavoro riproduttivo, quello che chiamiamo anche lavoro domestico. E parlandone in quel modo così diverso dal modo in cui se ne sente parlare normalmente, nel dibattito pubblico anzi non se ne sente parlare e soprattutto in un anno come questo con la pandemia in cui la maggior parte delle persone che hanno perso il lavoro sono donne e si sono quindi sobbarcate ulteriormente il lavoro di cura e nessuno fa niente, nessuno importa, è fondamentale leggere un testo come quello di Federici perché lì sì che ti smuove qualcosa dentro e ti fa venire voglia di agire e ti rendi conto che appunto il libro come può essere quello di cui parlavo prima sulle donne sotto il comunismo si è carino, si ok, mi dà qualche spunto di riflessione, mi ha fatto scoprire cose che non sapevo, tutto bellissimo, però non mi dà la forza di dire a cavolo è vero se noi cerchiamo di far valere il lavoro riproduttivo e il lavoro di cura come un lavoro vero e proprio perché stiamo lavorando per il capitale ma lo stiamo facendo non solo gratis ma addirittura in modo ancora più meschino di così ci viene intortato che è un qualcosa che a noi viene naturale, che è un qualcosa che facciamo per amore, quando in realtà dovrebbe innanzitutto non essere genderizzato e legato solamente alle donne ma dovrebbe essere un qualcosa di riconosciuto per quello che è, quindi ultra consigliato. E mi fermo qua se non vado avanti altre due ore. Passando a tutt'altro genere, per Natale mi hanno regalato A Babbo Morto di Zero Calcare e mi è piaciuto tantissimo, è una storia ovviamente sì, è molto breve, è una storia di Natale che però vuole essere ovviamente una metafora di quello che è il mondo del lavoro, la questione scioperi e in un certo senso quello di cui sentiamo parlare sotto forme diverse oggi possono essere i lavoratori nei magazzini di Amazon, tempo fa potevano essere gli operai, eccetera, eccetera, però rimane, però appunto il concetto è sempre quello e Zero Calcare come al solito è bravissimo nel parlare di temi seri e importanti, riuscirlo a fare facendoti anche ridere, ma non per questo sminuendo l'argomento di cui sta parlando. Per tornare ad altre tematiche non proprio comode e tranquille, ho letto anche A Novel About the Balkans di Zavenka Draculic, non sono sicura se sia ancora in commercio in italiano, molte delle sue opere che sono state tradotte da, direi da Bottega Errante, ma come al solito vi lascio tutte le informazioni in giro sotto. Ok, questo sì, è un romanzo, però la cosa importante da ricordare, e anzi, sono due le cose importanti da ricordare, la prima è che un po' come Margaret Atwood ha fatto con Il racconto e l'ancella, anche qui tutte le cose che succedono sono successe, non alla stessa donna, non nello stesso momento, ma sono frutto di anni di interviste che appunto Draculic ha fatto dopo la guerra e l'occupazione della Bosnia. Quindi, prima premessa. Seconda premessa, se le tematiche di stupro, violenze di ogni tipo, eccetera, vi disturbano, è stata la larga perché qua non viene risparmiato nulla. Ed è la storia appunto di S, noi non sappiamo il suo nome, sappiamo solo l'iniziale. Lei lavorava come insegnante, credo, in una scuola in Bosnia appunto e nel 1992 ad un certo punto semplicemente arriva un militare, diciamo, a casa sua e dice ok, adesso tu vieni con me, prepara un borsone, vieni con me e viene portata in questa sorta di campo non saprei come definirlo, di concentramento. le donne e i bambini da una parte, gli uomini in un campo di fianco e devono sottostare appunto questi soprusi senza sapere nulla del perché, per come, se mai finirà, non sanno nulla. Questo perché durante appunto la guerra nella ex Yugoslavia venivano creati questi campi di prigionia che hanno poi portato ovviamente anche a un esodo, a un'immigrazione quasi forzata perché dopo che si vive una cosa del genere di certo si vuole cercare di cambiare vita. È sicuramente appunto un romanzo che non ti risparmia nessun dettaglio e che ti fa veramente riflettere molto su un periodo storico di cui secondo me non si parla abbastanza, io personalmente non l'ho neanche mai studiato a scuola neanche vagamente e mi sento veramente ignorante perché negli anni 90 ero all'elementare quindi non posso avere dei ricordi sensati del periodo e molto spesso quindi viviamo di tutti quelli che sono gli stereotipi e i preconcetti i pregiudizi su sui sui Balcani e quest'anno ho cercato veramente tanto sto cercando ancora tanto di leggere molto di quella zona e in generale di un po' istruirmi su appunto un periodo storico di cui so poco o niente e anzi a tal proposito se avete consigli fatemi sapere perché ho veramente bisogno di informarmi di più sotto natale ho deciso di finalmente leggere ragazza donna altro di Bernadine Evaristo che in Italia è stato tradotto da Martina Testa per Sur sempre per la storia uno compra il libro e poi legge mille anni dopo perché appunto l'avevo addirittura comprato in cartonato ovviamente non penso che abbiate bisogno di me per dirvi di leggere questo libro ma boh ripetite a Juvent leggete questo libro se non l'avete ancora letto perché è meraviglioso Bernardine Evaristo in realtà la stavo tenendo d'occhio da prima che vincesse il premio perché quando è stato il premio credo che sia stato dato a settembre boh del 2019 io quel marzo lì il marzo di quell'anno ero andata alla London Book Fair e c'era stato un un piccolo panel su dieci scrittrici britanniche consigliate credo fosse da Elif Shafak se non erro e fra appunto le dieci scrittrici c'era anche lei ed era anche una delle poche presenti e mi ricordo che il modo in cui lei proprio parlava del suo rapporto con la letteratura di quello che per lei è la scrittura mi aveva rapita subito quindi quando poi è uscito questo l'avevo comprato e poi non l'ho letto comunque parentesi chiusa come penso saprete sono varie storie di di donne principalmente tutte ambientate a Londra o comunque in Regno Unito con una piccola parentesi anche in qualche altro paese però il punto focale è questa Londra appunto moderna cosmopolita e cosa significa anche essere inglese in un certo senso perché sono tutte persone di origini caraibiche o africane persone di prima generazione migrate di prima generazione è veramente un mosaico variegato di storie che si si intrecciano è bellissimo e un'altra cosa che mi è piaciuta molto è anche la presenza di Londra perché è la Londra autentica delle persone che ci abitano spesso quando si pensa a Londra si pensa ovviamente alle zone più famose e non si sa invece che la maggior parte delle persone non vive così non vive in quelle belle casette che ci piace fotografare se poi si aggiunge a quello il fatto di essere immigrati da certi paesi ovviamente considerati in un certo modo perché ex coloni eccetera eccetera cambia ancora di più ecco il modo in cui sei percepito tu a Londra e come tu vivi Londra quindi questo mi è piaciuto veramente tanto inoltre adesso Edaristo ha anche appena lanciato una collana con la Penguin proprio per promuovere tantissimi autori e autrici britannici britanniche nere quindi sono molto curiosa anche di recuperare qualche titolo perché appunto qualcuno selezionato da lei sicuramente merita di essere eletto dopo ragazzare un altro mi sono lanciata su un memoir All the lies we ever leave di Catherine Smith che ha questa copertina bellissima ed è appunto un memoir in cui l'autrice cerca di superare il lutto dovuto alla morte del padre e lo fa leggendo e leggendo e analizzando tantissimo Gita al Faro di Virginia Woolf quindi abbiamo queste storie che si intrecciano le storie relative ai personaggi di Gita al Faro e la vita dell'autrice e in particolar modo il suo rapporto con il padre che era questa persona piena di vita di interessi era un architetto ma al tempo stesso era anche una persona con un grave problema di alcolismo quindi la storia familiare di lei appunto viene riletta in questa chiave molto particolare in cui Virginia Woolf diventa quasi un appiglio per lei ovviamente non è una storia allegra non è una storia che ti ti rassicura molto però mi è piaciuto molto il modo in cui appunto lei riesce a a intrecciare queste due narrative così diverse e anche se ambientata negli Stati Uniti con qualche viaggio in Regno Unito perché poi lui era appunto inglese non so è come se tutto fosse collegato l'elemento del mare è potentissimo e a me tutto ciò che riguarda il mare piace sempre molto quindi è un elemento che ho davvero apprezzato ed è stato molto interessante poter poter entrare appunto in queste vite di lei della sua famiglia è un po' triste nei confronti del personaggio del personaggio nei confronti della madre non è un personaggio perché appunto leggiamo di questa donna che in fin dei conti ha lasciato il proprio paese perché la mamma è australiana e si è ritrovata veramente catapultata in questa vita che ad un certo punto prende una piega bruttissima e che molto spesso la figlia si rende conto di non aver apprezzato fino in fondo quindi è una storia appunto dicevo drammatica non solo per il fatto che appunto il padre muore ma proprio anche per questi rapporti interpersonali che col senno di poi lei analizza e cerca di comprendere è molto doloroso però però mi è piaciuto molto e io ve lo consiglio soprattutto ovviamente se gli piace Virginia Woolf il libro successivo è il primo di tanti che ho infilato da qualche parte ed è Chav Solidarity che in italiano credo che sia Chav no sì Chav Solidarietà Coatta che ha tradotto Alberto Prunetti per Allegra e che è una raccolta di saggi non fate come me non cominciate a leggerlo pensando che sia un romanzo non so perché nella mia testa doveva essere un romanzo è una raccolta di saggi e lo dico perché appunto pensando che fosse un romanzo mi è sembrato molto mi è sembrato poco coeso e poi ho capito che non era un romanzo e vabbè l'autore di Hunter non è riuscito a trovare un editore appunto qui in Regno Unito e quindi si è autopubblicato questo libro che poi è stato intercettato da Prunetti che l'ha portato in Italia come per Draculi c'è anche qui trigger warning grandissimo proprio grande come una casa perché la vita che ha passato lui è a dir poco tragica soprattutto nei primi vent'anni della sua vita lui è nato in una famiglia molto povera vivevano appunto in una casa popolare e un po' di espedienti in un certo senso tutti i membri della sua famiglia lavoricchiavano qua e là come potevano c'era un grande problema anche di abuso di sostanze e lui ha subito veramente di tutto nella sua vita violenze si è si è trovato a prostituirsi a un'età veramente molto molto giovane quindi ne ha viste di ogni ne ha sulla sua pelle ne ha provate tantissime ma ha anche conosciuto tante persone appunto ai margini della società e la cosa interessante di questo libro non è tanto ovviamente cioè non è il punto non è raccontare tutte queste questi avvenimenti drammatici ma riflettere molto sul tipo di società che è la società britannica che è una società estremamente classista e che soprattutto grazie al periodo della Thatcher ha portato veramente a un individualismo becero che fa sì che appunto le persone più svantaggiate semplicemente siano buttate in un angolo dimenticate e tutti i tagli dati alle organizzazioni locali ai vari council ha fatto sì che anche tutte quelle reti di supporto che prima minimo esistevano adesso non esistono più e quindi il suo ragionamento di Hunter è quello di dire la solidarietà che c'è fra le persone che appunto sono dei reietti della società è quello è il punto su cui partire Fancona riflessione molto interessante su su tutti gli ambienti tipicamente di sinistra o collettivi dove ci sono persone che con tutte le buone intenzioni però non non sanno esattamente di cosa stanno parlando e il discorso che lui fa sul far parlare intervenire le persone che sono direttamente coinvolte nel per quanto riguarda determinate discriminazioni è molto importante secondo me è molto attuale molto anche illuminante da certi punti di vista proprio perché spesso si crede che appunto bastino le buone intenzioni per fare sempre bene ma in realtà non è così passando a tutt'altro tipo di libro ho recuperato Radio Cairo di Maria Serena Pallieri che appunto come da sottotitolo parla della venturosa vita di Faustaccialente in Egitto se mi seguite da un po' saprete che io adoro Faustaccialente sto cercando di leggere tutti i suoi libri anche se per alcuni è un po' così una ricerca solamente nei mercatini dell'usato e questo questo libro riprende appunto i suoi diari di quando lei ha vissuto in Egitto e ad un certo punto si è occupata di fare propaganda antifascista presso Radio Cairo appunto Faustaccialente viveva in Egitto già da un po' perché il marito che era un compositore viveva in Egitto da qualche generazione insomma la sua famiglia era in Egitto da qualche generazione si è trovata lì quando è scoppiata la seconda guerra mondiale e appunto ha deciso di fare qualcosa nel momento in cui viene contattata dagli inglesi per per svolgere questa funzione appunto di occuparsi di un programma radiofonico pensato per gli italiani presenti in Egitto ma non solo veniva ascoltata anche dall'Italia la sua trasmissione e fare appunto propaganda antifascista è è veramente bello secondo me poter leggere appunto i diari e vedere giorno per giorno mese per mese pari pari con quello che stava succedendo in Egitto e nel resto del mondo è stato molto interessante poter leggere le impressioni appunto di una penna come quella di Cialente durante un periodo storico così importante e mentre lei svolgeva anche un ruolo non indifferente insomma come quello appunto di fare propaganda antifascista tra l'altro lei non amava particolarmente lavorare con gli inglesi quindi si percepisce proprio che molto spesso lei fa delle scelte anche un po' sofferte ma che compie con l'ottica di guardare a quello che è il vero obiettivo e cioè portare avanti appunto un discorso antifascista in questo libro oltre appunto al diario di Fausta Cialenta c'è anche poi una sorta di di biografia sulla sua vita se avete già letto Le quattro ragazze Wieselberger ovviamente non è nulla di nuovo però secondo me è comunque una parte veramente breve rispetto a tutto il resto però appunto è molto utile per per inquadrarla ancora meglio e per rendersi conto di quanto il suo ruolo come scrittrice ma anche come intellettuale proprio sia stato veramente messo da parte lei tra l'altro era anche molto amica di Sibilla Leramo conosceva appunto tantissime persone nell'ambito letterario e culturale italiano e mi auguro che insomma si continui a ripubblicare a riportare un po' in auge Fausta Cialente perché secondo me merita tantissimo un altro libro che ho letto quest'anno e che era uscito in un periodo bruttissimo perché è uscito nel mezzo del primo lockdown è The Glass Hotel di Emily St. John Mandel che è l'autrice di Stazione 11 e che io adoro questo romanzo è completamente diverso quindi non non ha niente a che vedere con la fine del mondo però se vogliamo è la fine di un mondo perché abbiamo diversi personaggi che si trovano coinvolti loro malgrado o per caso non perché lo volessero con questo personaggio che ha messo in piedi uno schema Ponzi cioè una sorta di no senza una sorta un imbroglio finanziario per cui in pratica lui cerca questi investitori che gli affidano i risparmi di una vita in pratica tanti tanti soldi gli fa credere all'inizio di avere questi ritorni di investimento altissimi in modo che questi continuino a dare soldi e a fomentare questo fondo di investimenti in realtà ovviamente non c'è nessun investimento è tutto finto e ad un certo punto come tutte le cose pensate male colla il castello di carta e insomma succede un po' un disastro ma non è tanto questo il punto il fatto che lei si sia ispirata a come si chiamava Bernie Madoff che appunto è in prigione per per aver messo insieme un messo in piedi uno schema di questo genere è più che altro il modo in cui lei riesce a creare sempre queste ambientazioni molto molto non lo so quasi rarefatte non so come dire perché l'hotel del titolo è questo hotel interamente in vetro e legno che è stato costruito in un isolotto artificiale in Canada dove vari personaggi appunto si incontrano casualmente e le loro strade appunto si si incrociano per un periodo quindi c'è quest'atmosfera molto particolare di un hotel così moderno e fatto di vetro in mezzo a un bosco ma parallelamente c'è anche il mondo di una New York ricchissima no di chi può veramente spendere migliaia di dollari così tanto per nel giro di due ore e secondo me le riesce benissimo a creare queste ambientazioni così diverse ma al tempo stesso che ti catturano tantissimo ti senti proprio risucchiato dal modo in cui lei scrive e riesci a a capire perfettamente quale personaggio sta parlando in quel momento quale punto di vista stiamo seguendo e e sono tutti secondo me personaggi a tutto tondo molto credibili per quanto gli succedano cose veramente fuori da questo mondo non so se sia già in corso di traduzione spero di sì perché credo che comunque Bonpiani abbia tradotto diversi dei suoi libri per me è straconsigliato ma appunto io sono anche di parte perché oltre a piacermi il suo modo di scrivere mi è piaciuto veramente molto ed è una una tecnica narrativa che amo molto l'avere questi personaggi che apparentemente non hanno nulla in comune ma le cui vite si incrociano per i motivi più svariati un altro romanzo con cui ho aperto l'anno è stato Guida il tuo carro sulle ossa dei morti di Olga Tokarciuk non so come si pronuncia il suo cognome che è un altro di quei romanzi che ho deciso di approcciare informandomi il meno possibile e ho fatto bene perché ho visto che viene spesso presentato come un giallo ma secondo me è un po' forviante come come descrizione per questo libro perché leggendolo io non ho ad esempio avuto l'impressione che fosse propriamente quello il punto focale ma comunque la storia parla di della nostra protagonista che è una una insegnante di inglese forzatamente in pensione appassionata di astrologia e che passa le sue giornate appunto a fare i piani natali che lo si dica sono molto ignorante di varie persone del villaggio di questo appunto paesino sperduto della Polonia e ad aiutare un suo amico a tradurre William Blake in polacco lei appunto è vegetariana è molto è molto anche come dire non si fa intimidire da nulla quando deve dire la sua opinione e la dice ed è molto combattiva nei confronti dei diritti degli animali e succede che cominciano ad esserci degli degli omicidi molto strani molto sospetti e lei decide di portare avanti la sua tesi che è che siano stati gli animali a vendicarsi nei confronti di queste persone che pedissequamente vanno a caccia in un certo senso in un certo senso trattano male gli animali trattano male l'ambiente eccetera io l'ho trovato veramente bellissimo mi è piaciuto tantissimo questa commistione fra lei che cerca appunto di portare avanti questa tesi e l'astrologia il concetto che si possano si possa fare analisi delle persone in un certo senso si possa cercare di conoscere meglio i loro intenti e quello di cui loro sono fatti in un certo senso mi è piaciuto molto che lei avesse la passione per dare i soprannomi alle persone che è una cosa che faccio anch'io molto spesso ma non per cattiveria ma proprio perché ho bisogno sempre di un collegamento mentale e mi è piaciuto molto vederlo messo in pratica e questa mescolanza appunto anche con le citazioni da Blake che lei appunto legge perché aiuta il suo ex studente a tradurlo l'ho trovato un romanzo veramente magico in un certo senso mi ha catturata fin dall'inizio e appunto buttarmici dentro senza aver letto troppe recensioni né niente mi ha aiutato molto a farmi proprio una mia idea ma soprattutto a farmi coinvolgere molto da questa narrazione che io ho trovato veramente particolare e di fatti vorrei leggere altro dell'autrice perché mi ha veramente aperto così mi ha aperto le porte di casa sua e adesso voglio esplorare tutte le stanze passando a tutt'altro tema ho approfittato di un'offerta lampo kindle per comprare skin care di caroline hirons che probabilmente conoscerete perché ha tantissimi follower su instagram e su youtube è un'esperta comunque di cura della pelle ha lavorato lavora da decenni in questa industria e credo che sia anche appunto cioè è proprio una professionista a livello molto elevato per trattamenti estetici tipo non lo so non so non so i termini i massaggi queste cose qua vabbè è una parentesi che magari non vi interessa ma se anche voi avete avuto l'acne da adolescenti probabilmente youtube vi avrà aperto un mondo per quanto riguarda la cura della pelle ho deciso di parlare di questo libro non tanto per così per parlare di argomenti di cui non so niente perché appunto non sono un'esperta ma per dirvi se vi ispira l'idea di comprare il suo libro perché è uscito anche questo durante il 2020 pensateci bene perché si fa comodo avere tutte queste informazioni in un posto solo soprattutto in kindle perché poi ricerchi la parola chiave che ti interessa ti vai a vedere cosa ha da dire però letteralmente il suo blog sotto forma di libro cioè è proprio uno specchietto per le allodole quindi se la seguite già ecco trovate già tutte le informazioni sul blog e sul suo canale lo dico perché non so cioè se io avessi comprato il cartaceo mi sarei anche un po' offesa soprattutto perché in questo periodo non è che uno può andare in libreria sfogliare e farsi un'idea quindi vabbè la butto lì ciò non toglie che mi piaccia seguirla mi piaccia ascoltare quello che ha da dire perché è molto competente però ecco tutto qua chiuso questa parentesi che appunto non è letteraria ho letto un altro memoir che avevo comprato anche questo secoli fa ed è A Woman on the Edge of Time di Jeremy Gebron con questa copertina bellissima e il sottotitolo è appunto A Sons of Search for His Mother e questa appunto è la mamma in questione la storia anche qui non è una storia allegra perché quando lo scrittore aveva 4 anni e sua mamma ne aveva 29 era molto giovane e un pomeriggio semplicemente si si suicida con il gas della cucina a casa di una sua amica non si sa perché non c'erano state avvisaglie non soffriva di depressione anzi era una donna sposata aveva due figli si era laureata stiamo parlando degli anni 60 quindi ha potuto laurearsi ha potuto addirittura fare un dottorato di ricerca insegnava quindi per l'epoca lei era considerata estremamente privilegiata e lo era e aveva anche appena scritto ed era in fase di pubblicazione una sua ricerca che poi era la sua tesi appunto di dottorato che parlava del del ruolo insomma di quello che le donne casalinghe essenzialmente provavano e in questa per questa sua ricerca per la tesi lei aveva intervistato credo 97 donne adesso non mi ricordo comunque tante donne che appunto come lei si erano sposate come era d'uso all'epoca e di conseguenza non avevano portato avanti altri progetti di vita se non quello di fare le mogli le mamme e stare dietro alla casa e è molto interessante quindi come il figlio cerchi di di capire non solo e non tanto il motivo per cui sua madre abbia preso questa decisione così drastica ma lui abbia proprio cercato di capire che tipo di persona fosse sua madre perché per lui è una sconosciuta non ha ricordi essendo lei morta quando lui era così piccolo e cerca di ricostruire quindi la storia un po' della sua famiglia ma soprattutto appunto della madre contattando vecchie compagnie di scuola parenti ma ovviamente è passato tantissimo tempo non tutti sono vivi e quindi non so è stato molto bello ma al tempo stesso anche straziante poter leggere appunto tutto quello che lui deve passare le lettere di sua madre che lui legge così a 50 anni adesso non so quanti anni avesse quando ha scritto il libro però comunque la persona adulta lui stesso con figli adolescenti mi è piaciuto veramente veramente tanto soprattutto perché è anche uno spaccato e una riflessione appunto su su quella che era la vita delle donne negli anni 50 60 su quelle che erano le aspettative che la società aveva nei confronti delle donne e sul fatto che appunto lei Hanna avesse intervissato tutte queste case ringhe e quasi tutte dicessero di non sentirsi contente di aver abbandonato interessi di aver abbandonato gli studi perché quello era quello che ci si aspettava da loro nel momento in cui si metteva su famiglia ed è triste sapere che non è cambiato poi così tanto nel senso che cosa abbiamo veramente guadagnato in tutti questi anni è un collegamento interessante anche con Federici appunto con le letture che avevo fatto nei mesi precedenti proprio perché ritorna sempre questo concetto del del lavoro di cura del lavoro riproduttivo delle aspettative nei confronti delle donne quindi è stato molto interessante appunto vedere anche quelli che erano certi discorsi di 50 50 anni fa poi passiamo a un paio di graphic novel che ho letto il primo è The Fire Never Goes Out di Noelle Stevenson di cui vi ho parlato appunto nel book haul come dicevo è è una sorta di memoir come dice il sottotitolo dove appunto lei riprende un po' gli ultimi anni della sua vita ecco si parte dal 2011 e di anno in anno fa una sorta di di riassunto di quello che le è successo ora io da quando Tumblr praticamente è morto non la seguo così assiduamente come facevo prima però per quanto mi sia piaciuto perché sia molto interessante il discorso che fa sulla sulla salute mentale perché lei ha avuto diversi problemi insomma al tempo stesso suona un po' come quei post che la gente fa a fine anno in cui non lo so ripercorre il proprio anno ti dice ah ho fatto questo questo e quell'altro e che io non amo molto sinceramente mi trovo abbastanza imbarazzanti quindi ecco ha un po' quel quelli quel sì quell'andamento lì cioè tutto ah sì quello anno lì mi successe questa cosa quello anno lì sono andata al comic-con e dopo un po' uno dice vabbè avrei preferito di più che si concentrasse di più appunto su su quegli aspetti più più personali per conoscerla meglio non per farmi gli affari suoi ma perché i suoi successi professionali li posso vedere anche andando su wikipedia no quindi sì mi è piaciuto però avrei preferito che fosse un po' più approfondito rispetto all'essere un po' il brodo allungato dei post ristuntivi di fine anno ed è un peccato perché appunto lei mi piace tantissimo e ci sono effettivamente delle 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 parti molto toccanti e che mi hanno fatto scoprire un lato di lei che sicuramente non potevo conoscere altrimenti però sì c'è un po' anche questa cosa da dire l'altro graphic novel che ho letto è trottole di Tilly Walden che mi è piaciuto tantissimo questo è veramente non lo so non so come definirlo proprio è dolcissimo ma è anche molto straziante da un certo punto di vista ed è la storia appunto di lei dell'autrice che per tutta la sua infanzia adolescenza in pratica ha praticato il pattinaggio su ghiaccio artistico quindi lei aveva queste giornate infinite in cui si svegliava alle 4 andava a fare allenamento poi scuola poi compiti poi un altro tipo di allenamento le gare le trasferte in altre città per fare altre gare eccetera eccetera ma al tempo stesso non è propriamente il pattinaggio artistico ad essere il punto focale dell'opera ma più che altro un po' lei stessa la sua vita quello che lei stava provando in questi anni in cui viene vittima di bullismo a scuola in cui scopre la sua sessualità e cerca di fare pazzi con quelle che sono le aspettative che gli altri hanno di lei lei è anche una bambina è una ragazza molto riservata che sta molto sulle sue non perché odi gli altri ma perché è introversa è timida è silenziosa e non so a me mi è piaciuto veramente tanto ma al tempo stesso appunto è molto straziante entrare così nella vita di un'altra persona e vedere vedere che riesce a mettersi così a nudo e a mostrare sia il bello ma anche le parti più tristi e più più buie della sua esistenza e di quello che era la sua vita interiore a me è piaciuto veramente tantissimo e niente spero di leggere altro leggerò ho cominciato già Onesambi ma so che appunto ho scritto altri graphic novel e sono molto curiosa di recuperarli infine l'ultimo libro che ho letto l'ho letto in occasione del giorno del ricordo ed è Allora le foibe di Eric Gobetti è un libriccino veramente breve sarà 130 pagine si legge in una serata ed è molto molto interessante decisamente perché va a spiegare in termini semplici e in modo estremamente secondo me obiettivo e puntuale quella che è la questione delle foibe Gobetti è uno storico e va a spiegare a inquadrare il periodo storico a inquadrare anche l'area geografica quella dell'Alto Adriatico e a spiegare come mai sia una zona così particolare dal punto di vista proprio storico e non semplicemente per la questione foibe ma anche da secoli prima e l'ho trovato un libro veramente molto molto ben fatto che può andare bene per appunto un po' chiunque beh forse chi ne sa di quel periodo no ma soprattutto per quelle persone che sono convinte che che le foibe siano la Shoah va beh insomma che sia paragonabile alla Shoah quindi ecco se avete qualcuno così regalateglielo e fategli un favore e basta penso di aver parlato veramente tantissimo fatemi sapere come al solito se avete letto qualcuno di questi libri cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video ciao